Possono accedere gratuitamente alla vaccinazione in farmacia, quindi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, soggetti di età superiore ai 18 anni, elegibili o antidiritto, donne in gravidanza o postpartum, soggetti fino ai 65 anni di età a rischio di complicanze da influenza, over 65, medici, forze di polizia, vigili del fuoco, altre categorie socialmente utili, lavoratori particolarmente esposti, lavoratori a contatto con animali e donatori di sangue. Ogni farmacia provvederà tutti i venerdì a ordinare all'ASPA di Palermo le dosi necessarie. Pertanto è consigliabile prenotarsi per consentire alle farmacie di garantire la massima efficienza. Coloro che non rientrano nelle categorie degli elegibili o degli aventi diritto possono comunque vaccinarsi in farmacia a proprie spese, pagando il corrispettivo stabilito alla regione siciliana pari a 6,16 euro più il prezzo di acquisto del vaccino al pubblico. Le farmacie territoriali si rivelano un formidabile alleato del Servizio Sanitario Nazionale, sia per la dispensazione, cosa che facciamo da sempre, che per la cura, in questo caso anche per la prevenzione, delle principali patologie come l'influenza. L'accordo che abbiamo raggiunto con l'assessorato regionale della salute è quello con la distribuzione intermedia del farmaco, che ringrazio per la disponibilità mostrata nei confronti delle farmacie e indirettamente quindi nei confronti della popolazione, riconosce il ruolo e il valore che la farmacia ha nel campo della prevenzione su larga scala e tutto questo chiaramente a beneficio della popolazione sul territorio. Un compito che la farmacia ha sempre svolto, da sempre, e che ha dato ulteriormente capacità di saper svolgere durante il periodo della vaccinazione anti-covid. Siamo un presidio del Servizio Internazionale a servizio delle comunità locali e lo saremo ancora più nel prossimo futuro con la piena applicazione della norma sulla farmacia dei servizi che darà ulteriori possibilità ai nostri pazienti di trovare in farmacia un presidio pubblico pronto a soddisfare le richieste e a dare delle risposte utili al cittadino.